Ma è davvero più conveniente la laurea rispetto al diploma? Avrò più possibilità di fare carriera? Queste sono alcune delle domande che ci si pongono prima di intraprendere un percorso così lungo e sicuramente complicato. Detto ciò, non c'è una vera e propria risposta a questa domanda. I fattori che influenzano maggiormente le differenze salariali tra gli sono molteplici. Vi basti sapere che non è possibile però dire a priori se una strada sia meglio di un'altra. Per questo ognuno prima di effettuare questa scelta dovrebbe valutare attentamente le proprie aspirazioni future. Passiamo ora però al cuore di questo video e vediamo dei lavori non richiedenti laurea che hanno però uno stipendio spesso maggiore a quello di un laureato. Volendo fare una classifica di alcuni di questi lavori mettiamoli in ordine decrescente, al settimo posto troviamo l'operatore di impianti elettrici con uno stipendio medio di 64 mila euro annui ed è colui che controlla ed esegue la manutenzione sugli impianti elettrici. Pensate che per svolgere questo lavoro è necessario un semplice diploma di scuola superiore. Successivamente in sesta posizione troviamo il manager di agenzie immobiliari con uno stipendio medio annuo di 64 mila euro ed è colui che coordina l'agenzia immobiliare con uno stipendio però anche variabile perché può aumentare in base alle vendite effettuate e per svolgere questo lavoro vi è la necessità di un diploma di scuola superiore. In settima posizione troviamo lo sviluppatore di siti web ovvero colui che crea siti web e per svolgere questo lavoro è spesso richiesto un diploma che ne attesti le conoscenze un diploma di questo tipo conseguito da me dato che lo trovo un lavoro molto interessante. In quarta posizione troviamo il comandante di nave colui che comanda traghetti e rimorchiatori con uno stipendio medio di 72 mila euro annui. Adesso entriamo nella top 3. Al terzo posto troviamo l'operatore di reattori nucleari anche lui come la posizione precedente ha uno stipendio medio annuo di 72 mila euro però è in top 3 perché il suo stipendio varia molto anche in base alle mansioni che gli vengono assegnate. Questo lavoro lo si può svolgere con un semplice diploma di secondo grado e con molto ma molto coraggio. Al secondo posto con uno stipendio medio di 91 mila euro annui troviamo il controllore del traffico aereo. Anche se non richiede una laurea però necessita di un corso di specializzazione della durata di due anni. E adesso in prima posizione con uno stipendio medio anno di 99 mila euro troviamo il tecnico nucleare colui che assiste figure laureate quali fisici ed ingegneri che per l'appunto lavorano in impianti nucleari. Anche questo lavoro però come il precedente può essere svolto solamente dopo un corso di specializzazione. Come avete appreso ci sono molti lavori che anche senza laurea permettono di far carriera e guadagnare un buon stipendio. Detto ciò però è anche vero che molte di queste figure se non tutte lavorano a fianco di figure che questa laurea l'hanno conseguita. Adesso vorrei concludere dicendo che ci sono molti dati interessanti da analizzare quando si vogliono comparare le possibilità dettate dal possesso o meno di una laurea. Essendo questo il periodo di inizio di molti laureandi fatemi sapere con un commento qui sotto se siete interessati ad un video dove affrontare le differenze anche percentuali dei vari stipendi. Inoltre vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi se questo video vi è piaciuto e di attivare la campanellina per non prendere i prossimi video. Mi aiutereste molto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!